Il campionato di qualità ed eccoci con il podio Adesso dico una cattivella, posso dire? Vedo che Mika è sul gradino più alto L'ho detta C'è un buco sotto, hanno busato il gradino Sì, lui effettivamente è molto basso Ma questo aiuta comunque nel motociclismo Stava dietro Goy Lui ha provato all'ultimo giro Dopo l'altro sono passato Quella è l'ultima curta, sono buona È già uscito più forte della ultima cincana L'ho provato, non voleva fare il tocco Però poi è stato così, sono molto contento Voglio ringraziare al team, a Kawasaki E tutti per il grande weekend Grazie a te e complimenti per la bellissima gara Grazie